Non è riuscito a vedere realizzati i suoi ultimi progetti il crescente Piazza della Libertà a causa delle precarie condizioni di salute che gli hanno impedito di prendere parte all'inaugurazione a Salerno. È morto a 82 anni a Barcellona, Riccardo Bofil, l'architetto e urbanista spagnolo si è spento dopo aver contratto il Covid. Lascia un segno indelebile nel capoluogo, come ricorda il vice sindaco Pachi Memoli. Ieri sera ho ricevuto dei miei colleghi che venivano dalla Sicilia e li ho portati a Piazza della Libertà, abbiamo fatto una passeggiata, sono rimasti estasiati. Ha cambiato quella zona che voi sapete benissimo, era una zona degradata, l'ha restituita la città con luci, con una prospettiva praticamente sul mare, ha cambiato l'urbanistica di questa città. Quindi un ringraziamento al nostro Bofil. Il progetto dell'ultima parte del frontemare di Salerno fu affidato a Bofil nel 2007 dall'allora sindaco Vincenzo De Luca, che alla notizia della sua morte ha detto lo ricordiamo per le sue qualità professionali, per la sua umanità. Con la progettazione di Piazza della Libertà e del Crescent ci ha lasciato uno dei segni più significativi dell'architettura contemporanea e della trasformazione urbanistica della città. Gli fa eco il sindaco Vincenzo Napoli, che precisa Riccardo Bofil, ha dimostrato un grande amore per Salerno, la sua storia, la sua bellezza. Gli saremo eternamente grati per la sua genialità, la sua passione, la condivisione della fatica per la realizzazione di un'opera epocale.